Ragazzi, Fortnite è morto. Sto facendo caricamenti di un botta di tempo. Forse io mi sono detto, sarà la fine di Fortnite? Io penso di sì, perché mi avevo parlato di questa cosa. E quindi avevo ipotizzato questa cosa. Sto facendo caricamenti di otto minuti, a me otto minuti, da un sacco di tempo. A me dice in coda, in attesa di server. E questa cosa è uscita da un sacco di voi. Perché? Perché dobbiamo aspettare tutto questo tempo? Se è una partita, se si trova da riserva, i giocatori giocano una partita massimo a 28 minuti. Perché ogni 2, 3, 8 minuti, 8 minuti, 8 minuti? Cioè, boh, guardate. Finito. Riprova. Prendiamo il joystick. Premiamo Y. Niente, niente. I server non rispondono. Niente ragazzi. Rip fortemente. Rip. È morto. Non va più. Guardate. Va bene, niente. Il video finisce qui. Via il giorno.